La MediComics Games, la fiera del fumetto e videogioco si svolgerà domani sabato 19 dicembre e poi domenica 20 all'Hotel dei Pini tra Agrigento e Portempedocle organizzata da Officina dell'Economia e Confinfresa Euromed con Luca Castronovo. Informazioni sul sito internet www.medicomics.net Ascoltiamo in proposito il direttore artistico Maurizio Cacciatore Tra Agrigento e Portempedocle all'Hotel dei Pini sabato 19 dicembre e poi domenica 20 dicembre la fiera del videogioco e del fumetto. Il direttore artistico Maurizio Cacciatore Siamo riusciti a organizzare questo piccolo evento. In viaggio ci sono due ospiti. Sono Riccardo Protani che viene da Roma ed è giornalista, nonché ufficio stampa e relatore del CUN e l'autrice del manifesto Federica Manfredi, artista nazionale e internazionale, lavorato per Star Trek, Marvel. Avremo la possibilità quindi di offrire alla città di Agrigento una manifestazione dove si può gareggiare con tornei di videogame, carte ma soprattutto sarà ricca di incontri con autori che spiegheranno il mestiere del giornalismo, il mestiere del fumetto, corsi di fumetto che verranno realizzati in città con la partecipazione poi di artisti come ospiti. Peraltro gli organizzatori hanno inserito anche un concorso abbinato alla Due Giorni. Sì, è un concorso principalmente dedicato ai giovani sul giornalismo, quindi saranno delle scuole che proporranno i loro elaborati ed è per questo che ci saranno degli incontri relativi poi al mestiere del giornalista. Tra i nomi più attesi? Ahimè c'è stata una defezione per quanto riguarda l'ospite d'onore perché ha una febbre molto alta ed era il Accordi Richards che è il presidente del museo del videogioco del giocattolo di Roma e dell'Accademia Vigamus. Quindi questo era l'ospite più atteso, purtroppo non ci sarà, però c'è un grossissimo autore della Sergio Bonelli Editore lavorato per Brandon, sta lavorando attualmente per una nuova storia di Dylan Dogg. Ci saranno mostre dedicate a lui dove potrà addirittura fare disegni dal vivo e offrirli a chi sarà presente.